E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video qui da Alcammatte che vi parla ragazzi E oggi siamo qua per parlare della partita che si è terminata poco fa tra Spagna e Italia, Spagna 3, Italia 0 Finisce qua la partita del Bernabeu, finisce qua appunto che vince la Spagna 3-0, doppietta di Isco e gol di Morata Partiamo subito dal presupposto ragazzi che addio primo posto, andiamo agli spareggi E oggi veramente sono rimasto deluso da questa nazionale ragazzi Io continuo a dire che comunque Ventura secondo me non è l'allenatore nostro adatto alla nazionale italiana Infatti dai Conte vieni là, non te sei via nessuno, vieni qua da noi che stai tranquillo E cioè rega io vorrei un ritorno di Conte perché poi fatemi sapere voi ma a me questo Ventura non mi ha mai convinto da quando è arrivato Infatti mi aspettavo qualche compo in più da vecchio però non è stato così infatti rega non è stato così E mi ha dispiaciuto molto questa cosa Magari può essere pure che al mondiale quando arriviamo perché non è detto che arriviamo ragazzi Perché c'è l'Albania sotto qua, cioè sotto l'Albania che sta al terzo posto a meno 4 da noi Quindi comunque sta a meno 4 da noi raga e è un po' pericolosa la situazione E quindi ricordiamo che se sta a meno 4 la prossima è contro l'Israele e quindi è veramente molto molto dura Dobbiamo forza vincerla se no ripeto l'Albania sta sempre più vicino Se non andiamo al mondiale noi che figura ci facciamo raga? Che figura, cioè proprio viene disonorato il nome Italia Veramente scandaloso raga Comunque ripetiamo migliori in campo della Spagna assolutamente Isco Secondo me migliori dell'Italia secondo me Cosa raga buffon Almeno ci ha provato raga almeno ci ha provato Ma neanche dire migliori in campo dell'Italia perché secondo me neanche a dire che proprio c'era un migliori in campo Forse possiamo dire Bonucci che ha lottato, ha fatto un bellissimo assist a Belotti Che però purtroppo era un fuorigioco Tra quei assist che un difensore fa veramente bene Comunque Verratti veramente tra i peggiori in campo secondo me Verratti Perché comunque ha preso un giallo e poi con la nazionale non riesce mai a crescere Riesce per sempre col Panini St. Germain ma con la nazionale mai A me sta cosa un po' mi dispiace perché comunque Marco è sempre un gioco molto molto buono E con la nazionale tu devi dare il meglio con la nazionale Però quando non lo dai comunque la convocazione è un po' a rischio Quindi raga Cioè veramente non so più che dire Comunque poi Isco veramente straordinario Calcio e punizione al tredicesimo la mette dentro Poi di destro al quarantatesimo Quarantacinquesimo la mette dentro E secondo gol per la Spagna Poi comunque ha segnato Morata il 3-0 Raga veramente non so che dire di questa partita Sono rimasto un po' male sinceramente perché non mi aspettavo questa Mi aspettavo una reazione da parte degli azzurri Solo delusione sinceramente Poi fatemi sapere voi se siete delusi o no Per me c'è solo delusione per questa partita Poi fatemi sapere voi raga non lo so Vabbè raga fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa partita Lasciatemi un commento qui sotto Fatemi sapere cosa insomma Cosa Cosa Di questa partita cosa ne pensate Chi ne dava la vittoria Noi ci becchiamo ad un prossimo video ragazzi E sempre forza Juve bella